... Bernardo la gioia è tanta, avete fatto una grandissima partita e soprattutto chapeau al numero otto della Catania Billsoccer, gol, assist e tanta qualità oggi. Ho oggi sono molto felice perché io non sapevo qual è la Catania a fare dieci giochi, quindi era un peso troppo, era tanto pesante su me, però io ho fiducia di tutti giocatori di Catania, tutti parlavano, quando arriviamo alla decisione, tu deve crescere e così, era una partita difficilima, stavano 3 a 2 fino al terzo tempo, però noi abbiamo una stella, Dani Bosco che ha segnato due volte per una partita e il risultato è incredibile. Senti, il risultato è incredibile, ma è il risultato del cuore e della passione di questa squadra, oltre alle qualità dei giocatori? Tutto, qualità, cuore, testa, questa è una partita che noi dobbiamo mettere tutto, mettere testa, cuore, gambe, qualità tecnica, è una partita difficilima, però adesso riposare per domani che sarà un'altra guerra. A due minuti dalla fine Mister Belluso ha detto, scacca l'ora di Daniele Bosco e cosa hai combinato? Hai dato il 4-2, il 5-2, hai stesso a Viareggio con un 1-2 straordinario in un momento critico della gara. Sì, i miei due gol sono stati importanti per la squadra, ma il merito è anche tutta la squadra perché giocando tranquilli, con la calma risultiamo fare risultato, i miei due gol sono merito anche dei miei compagni di squadra. Si è rivisto il Catania della Coppa Italia, si è rivista la testa, il cuore, le gambe, la concentrazione e permettimi anche, con un Saganowski in più che non è male. Un giocatore molto importante che ci dà molta forza in avanti e sì, stiamo ritrovando piano piano il Catania che in Coppa Italia aveva dato il massimo del gioco e piano 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 piano. Senti, e adesso con lo Seumo o Belpazzese? Potrebbe esserci anche il derby, però è una semifinale che adesso l'appetito vi è mangiando perché si vuole ritornare a essere veramente sopra il tetto d'Italia. Speriamo, l'una vale l'altra, noi chiunque incontriamo se la mettiamo sempre tutta, giocando sempre nello stesso modo, sempre con la solita concentrazione e sempre con lo spirito di gruppo, quello che non ci manca.